Tra sbordi rumorosi durante la notte nel parcheggio La Salle a Torre del Greco. Questa mattina alle telecamere di TV City i consiglieri Vincenzo Salerno e Santa Borriello del Movimento 5 Stelle hanno denunciato gli episodi che si ripetono da agosto, presentando stamattina un'istanza in consiglio comunale. La raccorta firme che è nata in maniera spontanea da parte dei cittadini che da quando quel sito è stato individuato come idoneo alle pratiche di trasbordo ci siamo fatti portavoce delle loro problematiche, della loro istanza. Ho presentato in prima persona a nome loro un esposto alle forze dell'ordine. La questione è abbastanza semplice per quanto devastante per quel quartiere. Le pratiche di trasbordo oltre a rovinare la solubilità dell'aria proseguono soprattutto durante tutta la giornata, in particolare di notte, creando dei disturbi anche sociali. In maniera rudimentale gli abitanti della zona hanno ad esempio rilevato i decibel percepiti durante gli orari di piena notte, parliamo di 80-78 decibel, basti pensare che il passaggio di un treno si registri con 90 decibel. E quindi oltre ad essere portatori di questa istanza, con la collega Borrillo Santa abbiamo presentato quest'oggi in consiglio comunale un'interrogazione per comprendere due cose importanti. In primis, come sia possibile individuare quell'area come idonea al trasbordo dal momento che il capitolato speciale d'appalto all'articolo 34 lo permette solo in zone periferiche e con bassa densità abitativa. È abbastanza palese per chi conosce la nostra città che non può per niente rispondere a queste caratteristiche. Ma soprattutto come sia possibile che il tutto avvenga di notte dal momento che la raccolta rifiuti è dato sapere che inizia alle 4.20 del mattino. Pertanto è inimmaginabile concepire che questo avvenga prima di quell'ora in piena notte. La risposta che abbiamo ricevuto stamattina è abbastanza grottesca perché abbiamo saputo dalla dirigenza che allora risulta che solo una notte, il 31 luglio, queste pratiche sono avvenute di notte e che quindi tutti i video, tutte le lamentele che hanno portato addirittura le persone a scendere e a raccogliere firme, ad andare dai carabinieri a far presente del disagio, probabilmente è una visione. È una visione e quindi due sono le cose. O è delirio comunale la risposta che abbiamo ricevuto stamattina o siamo tutti vittimi di una visione di massa. Qual è la sua azione adesso dopo questa risposta? A parte che andremo a fondo sulla risposta per comprendere come sia possibile avere un relato che è totalmente in contrasto con quella che è la realtà dei fatti. Ma per dare anche un pizzico di speranza agli abitanti della zona possiamo benissimo anticipare che in condivisione con anche rappresentanti della maggioranza si sta presentando, anzi si è presentato oggi e notizie dell'ultima ora, l'abbiamo appena protocollato, una richiesta di ordine del giorno di partecipare al bando sport e periferie che scade il 30 ottobre, che permette attraverso i fondi ministeriali dello sport e delle politiche giovanili di recuperare zone periferiche e degradate e di aprire allo sport. Abbiamo individuato proprio quell'area dove ora fanno il trasbordo, così come altre aree, ad esempio la villa comunale, tanto salvo d'acquisto quanto c'è Ravolo, dove immaginiamo ad esempio una pista di pattinaggio perenne, ma soprattutto stiamo cercando di partecipare a questo bando e di recuperare delle aree urbane non pienamente sfruttate o in situazioni di degrado e riconvertirle ad aree di sport. Quindi oltre ad andare a fondo su quello che è l'aspetto amministrativo della risposta data dalla dirigenza, siamo subito partiti, ripeto, in condivisione con altre forze politiche, nel cercare di riconvertire quell'area da un'area rifiuti a un'area di sport. Grazie